Amici e amici, benvenuti! Oggi cuciniamo un semplicissimo brano neoclassico, minimalista, sperimentale, moderno, elettronico, bla 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 bla. Per farlo ci servono 6 etti di violino freschissimo, 2 kg di sintetizzatore, 1 kg di batteria elettronica e circa 300 g di pedale campionatore. Cominciamo scaldando il violino a fuoco lentissimo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon appetito.